Ciao a tutti da GamingTube Italia, benvenuti nella video guida definitiva di Final Fantasy VII Remake. Nel gioco sono presenti 26 incarichi, ma solo 24 possono essere completati, dato che nel capitolo 9 il completamento di alcuni incarichi ne causerà l'annunamento di altri. Solo i capitoli 3, 8, 9 e 14 hanno degli incarichi da completare. Andiamo quindi a vedere come completare l'incarico Macchine Impazzite. Percatevi nel punto indicato sulla mappa per iniziare l'incarico. Parlando col ragazzo verrete a conoscenza del fatto che ci sono 5 nemici, robot, che vagano per la zona. In questa video guida vi mostro la posizione di tutti e 5 nemici, che vi ricordo essere deboli agli attacchi di vendito. Equipaggiatevi quindi di conseguenza per non farvi trovare impreparati e sconfiggete tutti e 5, in modo tale da completare l'incarico. Vi ringrazio per la visione, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi invito a mettere mi piace, a condividere il video in modo da permetterci di continuare a portare contenuti sempre più belli e migliori per tutti voi. Grazie e alla prossima. Ciao! Ciao!